Sono Cristina Benedetti, sono in staff al responsabile del servizio del Real Estate Active Management. Ci siamo occupati del nuovo progetto di Workplace di Biper e oggi siamo nei nostri uffici nuovi di Milano Diamantino che vi presenterò. Il nuovo modello di Workplace del gruppo Biper supporta al cambiamento della nostra giornata lavorativa, mettendoci a disposizione spazi differenti per ogni tipologia di lavoro che ci troviamo ad affrontare. Per esempio qui siamo in un'area in open space dedicata al lavoro individuale. Il nostro nuovo modello ci aiuta tramite una politica di sharing desk a occupare la postazione lavoro soltanto nei momenti in cui ne abbiamo effettivo bisogno. Per fare questo l'azienda ci ha messo a disposizione un'app di prenotazione. Il nuovo Workplace ci mette a disposizione degli spazi come questo, è un phone boot che è riservato alle nostre telefonate o alle nostre video call in spazi completamente insonorizzati per non essere disturbati e per non disturbare gli altri. Per i meeting ogni piano prevede una pluralità di stanze come questa che possono essere capienti da 4 a 20 persone. Ogni sala è dotata di tecnologia avanzata per poter fare delle videoconferenze o delle call conference. Molto importanti e innovative sono le aree di collaborazione informali. Questi spazi che non sono prenotabili ma sono usufruibili liberamente sono ottimi per fare gli incontri tra piccoli team e degli scambi di informazioni veloci tra diverse unità di business dell'azienda. Quando abbiamo necessità di focalizzarci su un lavoro particolare abbiamo la possibilità di utilizzare queste postazioni che sono aree di concentrazione che ci permettono di isolarci un attimo dall'ambiente circostante. Per la pause dalle nostre attività lavorative troviamo delle aree break dove possiamo prendere un caffè con i colleghi, fare due chiacchiere oppure consumare un pasto veloce in queste bellissime e comode postazioni.